Andrei Sensenkov è stato tradotto in 31 lingue. Nel 2015 il Pen Club statunitense lo ha premiato per il miglior libro di poesie tradotte in inglese. Ha vissuto a lungo a Mosca, in seguito all'invasione dell'Ucraina nel febbraio 2022, ha lasciato la Russia per rifugiarsi ad Almaty, Kazachistan, dove continua a svolgere la professione medica. Nei versi di Andrei Sensenkov sono palesi i rapporti con il mondo della pittura, come pure la commistione di generi e di nazioni, in particolare il legame con Vermeer, la pittura dello sguardo, la raffinatezza dei dettagli, la loro importanza, si veda la lirica Vermeer capovolto alcune volte, in cui domina la creazione e il sostegno dato alla solidità. L'azione artistica e letteraria in particolare lavora sulla conservazione e sul sostegno della solidità della vita e della bellezza nell'essere umano. Dalla nota di Paolo Galvagni